Nelle Marche si fanno sempre meno bambini e nel corso del 2017 abbiamo toccato il minimo storico. A certificarlo sono gli ultimi dati disponibili diffusi dall'Istat, che confermano la parabola discendente con il dato peggiori di sempre, appena 10.699 bambini. Rispetto all'anno precedente sono nati 813 bambini in meno, pari a un calo del 7,1%, mentre nell'ultimo quinquennio sono diminuiti di 1.964 unità per un calo del 15,5%. La crisi delle nascite è un fenomeno nazionale ormai strutturale, ma il trend di denatalità registrato nelle Marche è molto più alto sia di quello nazionale sia di quello delle altre regioni del centro. A diminuire sono sia i figli nati da coppie italiane, ma anche quelli nati da coppie straniere, che rappresentano circa il 9% del totale. E se da una parte diminuiscono le nascite, dall'altra aumentano i decessi, che nel 2017 sono stati pari a 18.449, quasi il doppio delle nuove vite e in forte aumento sia rispetto all'anno precedente sia agli ultimi 5. A fine 2017 la popolazione marchigiana complessiva ammontava a 1.531.753 abitanti, ovvero 6.302 in meno rispetto all'anno precedente e 21.385 in meno rispetto al 2013. Come dire che in un anno è sparito un comune come Pergola e in un lustro una città come Recanati. E le cause non vanno ricercate nella scarsa qualità dei servizi sanitari, ostetrici e ginecologici, ma nel cambiamento sociale che ha reso la procreazione una priorità meno sentita. Infatti noi dal 2009 stiamo subendo una crisi economica che si ripercuote soprattutto sul mondo giovanile. Il mondo giovanile è quello che in natura deve procreare, deve creare praticamente il ricambio della società. E noi abbiamo una popolazione over 60 che è maggiore rispetto agli over 30. E ad aumentare è anche l'età media delle donne che affrontano la prima gravidanza. Una tendenza che rende i parti sempre più complessi, considerando che oggi la donna che partorisce per la prima volta ha un'età media di 32 anni, abbassando l'indice di fertilità a 1,26 ai figli per famiglia. Figli che devono essere sempre perfetti secondo i canoni dettati dalla società. Anche la crescita di un figlio non è la crescita dal punto solo di vista della salute, ma di fargli ottenere dai primi mesi di vita ai primi anni tutte quelle cose che secondo me sono superflue perché è un modo di fare che aumenta i costi delle famiglie, per cui allevare anche figli in questo modo praticamente rappresenta anche una spesa e questa spesa praticamente oggi non può essere supportata.